Dunque si è concluso il procedimento disciplinare del Comune di Sulmona nei confronti dei dipendenti coinvolti nell'inchiesta della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza sull'assenteismo. Il bilancio lo facciamo in diretta al nostro telegiornale con la nostra Antonella Micolitti che si trova proprio al Comune di Sulmona, la vediamo insieme al Sindaco Anna Maria Casini. Allora a voi la linea Antonella. Sì, giustamente hai detto Carmine, siamo qui in diretta dal Comune di Sulmona con il Sindaco Anna Maria Casini, con le riprese di Alberto Capo, come hai specificato tu è arrivato a conclusione il procedimento disciplinare del Comune di Sulmona in relazione all'indagine. Ricorderete che la Guardia di Finanza aveva avviato nel 2016 su false attestazioni di presenza in servizio del personale dell'ente una vicenda che era ovvio ha fatto molto discutere l'opinione pubblica. Il Sindaco di Sulmona ha proprio fatto un comunicato, si tratta di un giorno importante per la città perché, ha detto il primo cittadino e adesso ce lo confermerà, finalmente possiamo scrivere la parola fine su una vicenda complessa, delicata e dolorosa che ha riguardato un po' tutti noi. Sì, finalmente è stata fatta chiarezza in una vicenda che ormai da quasi tre anni ha coinvolto la macchina amministrativa del Comune di Sulmona. Le indagini che sono state portate avanti dall'ufficio del procedimento disciplinare, anche in raccordo con la Procura e avendo raccolto anche le memorie difensive delle persone coinvolte, oggi finalmente ha fatto piena luce differenziando le singole responsabilità e quindi anche riportando un po' la vicenda in una dimensione di normalità perché proprio a nord del vero la maggior parte delle posizioni si sono rivelate di irregolarità lievi. Le più attenzionate che sono quelle che poi coincidono un po' con i risultati delle indagini della Procura, oggi hanno avuto le sanzioni più pesanti. Questo porta anche a ripristinare l'onore e la credibilità di tutti quei dipendenti che comunque in questi anni hanno svolto il loro lavoro con onestà e senso di responsabilità. Speriamo che da domani si possa riprendere a lavorare per il bene della città con un nuovo entusiasmo e una nuova motivazione da parte comunque di quelli che sono i dipendenti pubblici di questa amministrazione che svolgono un ruolo importantissimo rispondendo direttamente ai bisogni dei cittadini. Lei prima ha detto che chi sbaglia deve pagare naturalmente ma in questa vicenda è stato molto forte anche l'aspetto umano. Sicuramente sì, ricordiamo che comunque sono stati coinvolti diverse decine di lavoratori del comparto complessivo. Il fatto che comunque questo chiarimento si sia realizzato soltanto dopo tre anni ha di fatto allungato una fase di incertezza che sicuramente non ha giovato anche da un punto di vista psicologico a tanti lavoratori che, devo ricordarlo, a onor del vero in questo periodo di tempo non si sono mai fermati. Quindi hanno continuato a garantire il loro apporto anche in un momento così difficile. Ha voluto ringraziare il segretario generale Nunzia Buccilli per il lavoro fatto? Sì, l'ufficio del procedimento disciplinare nella persona appunto del segretario generale ha svolto veramente un lavoro attento, puntuale, con grande correttezza proprio anche nel rispetto delle norme, delle leggi, mettendone evidente le responsabilità ma anche tenendo conto che si tratta di persone e che quindi andavano trattate con tutti i riguardi del caso. Carmine, non so se da studio hai una domanda per il sindaco Anna Maria Casini. Sì, volevo chiedere che cosa ha insegnato in generale questa vicenda, se ha creato una particolare consapevolezza anche in tutti i dipendenti oltre al fatto che sono stati sicuramente migliorati i presidi per l'attestazione delle presenze in ufficio o negli uffici. Diceva il direttore sindaco se questa vicenda cosa ha insegnato, soprattutto questa vicenda, anche agli stessi dipendenti e se sono stati, come dire, potenziati i controlli negli uffici. Sicuramente i meccanismi di controllo sono stati affinati, certo molte delle irregolarità, essendosi riverate delle vere e proprie leggerezze hanno insegnato sicuramente che ci sono delle norme ben precise che vanno rispettate sempre e comunque, anche quando possono sembrare irrilevanti. Quello che è importante è che, come dicevo, oggi questa vicenda che veramente ha travolto il Comune di Sulmona oggi si sia chiarita perché proprio è nella serenità e nella normalità che i dipendenti possono riappropriarsi del loro ruolo dipendente pubblico, portando avanti in maniera rigorosa il loro compito, tenendo conto quindi del grosso impegno che hanno per la città. Questo noi ci teniamo molto e pensiamo che insomma siamo pronti per ripartire anche da questo punto di vista. Ringraziamo naturalmente il Sindaco Anna Maria Casini, il Sindaco di Sulmona per la sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro Sindaco, se per te è tutto io ti restituerei la linea Carmine. Grazie, grazie Antonello, ovviamente approfondimento questa sera alle ore 20 e 40 anche su questa vicenda. Grazie al Sindaco per la disponibilità e la cortesia.